Il rapporto tra Ed Sheeran e le accuse di plagio ha radici antiche visto che, da quando il suo nome è sulla bocca di tutti, capita spesso che piombino addosso alla star problemi di questo tipo. E così, dopo aver vinto nel 2022 la causa di un presunto plagio per Shapeview, una delle sue canzoni più famose, la storia sembra ripetersi lasciando che nel mirino finisca un altro brano. Si tratta di Thinking Out Loud, una hit del 2014 che sarebbe troppo simile a una canzone di Marvin Gaye del 1972, Let's Get It On. Il cantante è stato chiamato a rispondere dell'accusa di violazione del copyright presso il Tribunale di New York da un giudice federale che, l'anno prima, ha respinto la richiesta dei legali del cantante di archiviare il caso. La Structured Assets Sales LLC, detentrice di parte dei diritti del brano di Gaye, ha, infatti, intentato la causa chiedendo a Ed Sheeran la bellezza di 100 milioni di dollari di risarcimento. La giuria dovrà tenere conto degli elementi di base della melodia e del ritmo del brano e decidere se la sovrapposizione tra la combinazione di progressione di accordi e ritmo armonico delle canzoni è simile al punto da essere considerati un plagio, hanno spiegato i media americani. Gli avvocati di Ed Sheeran respingono, però, tutte le accuse pur ammettendo che entrambe le canzoni hanno punti strutturali comuni, ma i frammenti ritenuti rubati non sono tali da garantire una richiesta di violazione del copyright. Il processo dovrebbe durare una settimana, coinvolgendo lo stesso Sheeran al banco dei testimoni. Come possiamo facilmente intuire, non è la prima volta che la star ha dovuto affrontare una accusa di plagio. Sami Shukri e Rosso Donogwe hanno, per esempio, sostenuto che il ritornello della loro canzone Oh Why del 2015, interpretata da Sami Switch, fosse troppo simile a Shapeview. Ed Sheeran ha sempre dichiarato di non aver mai ascoltato il brano e i giudici gli hanno creduto, facendo così decadere le accuse. Real Video vi ringrazia per essere rimasti fino alla fine, iscriviti e attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi video.